Il nervosismo durante un normale controllo li ha sicuramente traditi. Parliamo di una coppia di giovani marocchini fermata da una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Cesena nei pressi del casello autostradale di Valle del Rubicone. Gli agenti, insospettiti, hanno così deciso di verificare a fondo entrambi. Un sospetto che poi si è rivelata una certezza dopo aver quasi smontato la loro auto e stata rinvenuta nascosta del cruscotto droga per quasi 10.000 euro. Quindi droga destinata a chi? Ma sicuramente al mercato dei giovanissimi. Abbiamo rinvenuto e sequestrato poco più di un chilo di hashish composto da una decina di panetti e ripeto, destinato a coloro i quali si approcciano all'uso, al consumo delle sostanze stupefacenti. Per noi è un risultato soddisfacente perché oltre all'attività di repressione c'è anche quella della prevenzione. Non era il primo viaggio? Riteniamo che non sia il primo viaggio perché, ripeto, solo la tenacia degli investigatori ha permesso di ottenere questo risultato. Il vano che avevano loro ricavato a un normale controllo di polizia non avrebbe consentito questo sequestro.